Vorrei rappresentare in questa sede il terzo settore, cioè che è quell'area di volontariato che si dà da fare per cercare in tutti i modi di sviluppare, di sostenere, di promuovere le attività sociali ed economiche della città. Noi ci occupiamo con il sviluppo Castelli Romani sostanzialmente di questo, quello di cercare di rendere il territorio, con la sua produzione, di grande interesse per quello che riguarda non soltanto a livello locale, ma nazionale e internazionale. Lavoriamo molto in rete, quindi cerchiamo di mettere lì la produzione, gli eventi culturali. Abbiamo recuperato Tele Tuscolo e Radio Tuscolo, che erano due brand abbandonati, li abbiamo registrati, abbiamo dei domini internet e in questo momento abbiamo attivato da circa un 6-7 mesi Radio Tuscolo, che fa un po' quello che fa Angelo Cristofanelli, lui lo fa giustamente per mettere in evidenza il lato negativo delle anomalie, quello che emerge. Noi facciamo un discorso diverso, cerchiamo di mettere in rilievo le performance, cioè degli elementi caratterizzanti, degli elementi forti del territorio.